Siccità, grido d'allarme da agricoltura e allevamento Tubature d'acqua danneggiate ma tardano le riparazioni Luffatrice internazionale arrestata ad Ancona e ora in carcere a Pesaro Sostegno ai disoccupati, contributi da 20.000 euro per creare nuove imprese Cavirgini ha premiato come miglior bike hotel fra Marche e Romagna Martedì 19 luglio, buona serata, ben ritrovati su Rossini TV Il nostro telegiornale del canale 80 Questa sera apriamo parlando di siccità e delle conseguenze della carenza di precipitazioni Sulle produzioni agricole della provincia di Pesaro Urbino Parte infatti da Coldiretti un grido d'allarme per lo stato di salute di colture e allevamenti Temperature sempre più alte, pioggia sempre più rara e sempre più difficile da trattenere È una siccità che sta mettendo in ginocchio il settore agricolo e dell'allevamento della provincia di Pesaro Urbino con i cambiamenti climatici che alimentano un circolo vizioso di criticità già innescate dal caro gasolio e dall'aumento delle materie prime che poi si riflettono anche sull'inevitabile innalzamento dei prezzi al consumatore Una situazione allarmante come quella che viene dipinta da Coldiretti La situazione è drammatica perché di fatto dalla situazione aggravatasi dal punto di vista economico causa guerra perché di fatto l'inflazione sui costi a materia prima è aumentata in maniera esponenziale. Basta dire che il gasolio agricolo da 64 centesimi a novembre è arrivato a 1,50 euro In più stiamo vivendo questo momento drammatico a livello di clima perché oltre alla mancanza totale di pioggia da un po' di mesi anche le altissime temperature sopra la media stanno creando dei grandissimi danni. A tutte le culture purtroppo è chiaro che anche gli allevamenti stanno subendo purtroppo dei grandi danni perché l'erba medica invece di 4 sfalci si è riusciti a fare 2 sfalci solo perché non ha piovuto e di conseguenza il costo della medica è aumentato tanto che è da mangiare per i bovini, per gli ovini e per i cavalli. Tant'è vero che le stalle sono in difficoltà anche per le alte temperature perché la produzione di latte che dopo lo stress delle alte temperature diminuisce del 30-40 per cento nelle nostre stalle. Quindi grande difficoltà per il girasole, un esempio lampante che da quando è stato seminato non ha mai avvisto la pioggia, quindi grandissima difficoltà anche per quello. Fino a arrivare agli ortaggi ovviamente che hanno bisogno di molta acqua, fino a arrivare anche ai nuovi impianti di vigneti e olivetti che di fatto vedono seccarsi le barbatelle o le piante d'olio perché non ha mai piovuto. Situazione che anche il mio babbo che ha 68 anni dice che non ha mai vissuto in agricoltura. Oltre al danno si sta pure registrando la beffa perché per irrigare i campi l'imprenditore agricola deve pure farsi carico di costi ulteriori come il trasporto d'acqua con autobotti. Di fatto ci stiamo sobbarcando economicamente, magari si porta acqua, abbiamo dei pozzi ovviamente o si prende l'acqua in un appezzamento magari per innaffiare altre parti che ne hanno bisogno. E' chiaro che caricarlo su autobotti, trasportarlo ad un altro appezzamento, è chiaro che sono dei costi aggiuntivi. Il paradosso è che dobbiamo iniziare da un po' di anni che lo diciamo a lavorare in maniera preventiva perché ormai queste condizioni climatiche sono frequenti. Bisogna lavorare in maniera preventiva e adesso i fondi comunitari o il PNRR ci sono per fare dei piccoli invasi, dei laghetti, strutture sostenibili che siano adatte all'ambiente, il territorio, quindi non fare scempi ma far sì che queste acque piovane quando arrivano si possono catturare. Poi non parliamo degli sprechi dei comuni, dei viadotti, degli acquedotti che ci sono, che sono vecchi perché lì le percentuali di sprechi sono tante lì. L'agricoltura non spreca acqua perché l'agricoltura la utilizza per produrre cibo e in questo momento di guerra abbiamo visto che abbiamo bisogno anche del cibo perché purtroppo quando dall'estero non arrivano dei prodotti l'economia ne risente perché di fatto ci manca l'approvvigionamento anche di grano, di farina e quindi il paradosso è questo. Bisogna attivarsi per renderci quasi autosufficienti anche dal punto di vista agroalimentare. C'è crisi d'acqua e c'è pure lo spiacevole rischio di sprechi. Va in questo senso la segnalazione che ci è arrivata da un nostro telespettatore residente in zona Tombaccia i cui video ci mostrano una perdita d'acqua in via Cesena, angolo via Verrucchio, dove c'è un tombino delle tubature idriche che sta bagnando la strada da sabato pomeriggio. Il disagio è stato segnalato a Marche Multiservizi che è intervenuta sul posto apponendo un cartello con scritto guasto ispezionato stiamo provvedendo. Arrivati a martedì pomeriggio la perdita d'acqua però risulta ancora in corso. Moniteremo che il guasto venga riparato quanto prima e nel frattempo vi ricordiamo il nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni. Ed ora cambiamo argomento, è stata arrestata ad Ancona ed ora è in carcere a Villa Fastigi una truffatrice cinese di 35 anni ricercata pensate a livello internazionale per diverse frodi milionarie. La donna scappata dalla Cina nel 2019 è stata arrestata in un albergo di Ancona dove era prossima a imbarcarsi per un traghetto verso la Grecia. L'azione coordinata delle forze di polizia di varie regioni ha permesso l'arresto della latitante e la conseguente reclusione a Pesaro in attesa dell'estradizione in Cina dove la donna dovrà espiare una pena di 10 anni. Continuiamo con la cronaca. Un pakistano residente a Pesaro ha denunciato sabato alla polizia il furto di un monopattino elettrico sottratto all'interno del parco Miralfiore. Gli agenti attraverso l'acquisizione delle immagini di video sorveglianza sono risaliti a due responsabili minorenni di appena pensate 12-13 anni che sono stati colti sul fatto nel parcheggio della vicina Ipercop mentre erano intenti a rubare un secondo monopattino. Uno è stato bloccato, l'altro si è dato alla fuga ma rintracciato successivamente. I due hanno ammesso le loro responsabilità e restituito il monopattino rubato. La regione Marche stanzia 7 milioni di euro per sostenere l'occupazione e la creazione di nuove imprese. Sono infatti in arrivo contributi da 20 mila euro per tutti i marchigiani disoccupati che presenteranno progetti meritevoli di questi sostegni. Una delibera che prevede un impegno di 7 milioni di euro a favore di chi nella nostra regione volesse aprire una nuova attività e una nuova partita IVA. In questo senso ci sarà un bando il mese di settembre al quale potranno partecipare tutti coloro che sono interessati a questo tipo di attività. Abbiamo portato avanti questa scelta perché gli anni scorsi ci sono state attività similari, anche lo scorso anno ci sono stati diversi bandi sempre da me portati avanti e proposti, che sono andati tutti a buon fine. Ci sono molte attività che hanno preso corpo in questi mesi proprio grazie a questo contributo. Quindi lo vogliamo riproporre. Non c'è un limite di età, cioè chiunque tra i 18 e i 65 anni vorrà porre un proprio progetto di nuova iniziativa, di nuova attività con l'apertura di una nuova partita IVA potrà accedere a questo bando. Ovviamente saranno valutati per sostenibilità, per credibilità della proposta e poi ci sono alcuni altri criteri che danno un minimo di vantaggio a chi è che ha magari una disabilità o a chi risiede nell'entroterra, nei cosiddetti borghi storici, in modo da incentivare anche proprio le attività nei luoghi meno abitati, più lontano dalle città. La novità di quest'anno è che apriamo questo bando anche a chi è residente all'estero ma è marchigiano iscritto all'AIRE, cioè è ancora, diciamo così, cittadino anche della nostra regione, in modo da stimolare anche magari qualche rientro di nostri concittadini che qualche anno fa magari sono recati all'estero per questioni di lavoro e oggi sono interessati ad aprire una propria partita IVA. Il contributo di fatto è previsto in 20.000 euro per coloro che, ripeto, si aggiudicheranno questo bando con una proposta credibile e sostenibile e poi chiaramente dovranno dimostrare che questi 20.000 euro hanno sì portato avanti una loro attività che dopo alcuni periodi, i primi due anni siano ancora in auge ovviamente, non possono iniziare poi a chiudersi. È una bella iniziativa che verrà riproporta quindi anche quest'anno sulla scorta del volandamento degli anni passati. Come vi abbiamo mostrato già nel servizio di ieri sera, il turismo nella provincia di Pesaro Urbino sta godendo di ottimi risultati. Un successo ancora più eclatante per Ca' Virginia Country House di Borgo Massano, fresco vincitore del titolo di miglior bike hotel del programma 4 hotel di Bruno Barbieri, andato in onda nei giorni scorsi su Sky. Ascoltiamo a tal proposito il titolare di Ca' Virginia, Giacomo Rossi. Siamo con Giacomo Rossi, titolare della Ca' Virginia Country House, nonché neo vincitore del programma 4 hotel, andato in onda giovedì sera su Sky 1 con Bruno Barbieri. Per esservi classificati primi in questa gara competizione che riguardava i bike hotel, ve l'aspettavate questa vittoria? Che cosa avevate in più rispetto agli avversari? Innanzitutto siamo contentissimi, questo va detto. La nostra felicità è data proprio dal fatto anche che comunque sia non era assolutamente scontata, quindi metterci in competizione con strutture comunque sia storiche e importanti da un punto di vista di offerta specifica e specializzata per bike hotel è stata sicuramente una sfida molto molto interessante. La competizione comunque è stata tiratissima fino all'ultimo, infatti per chi ha già avuto modo di vedere la trasmissione, i punteggi che ci distanziano comunque sia sono veramente pochi perché solamente un punto avevamo rispetto al secondo e questo sicuramente conferma il fatto che comunque eravamo a giocarcela tutti lì a darmi pari. Io dico che per me e per tutto lo staff è innanzitutto la soddisfazione di essere arrivati primi nella classifica parziale, così come viene chiamata, che abbiamo scoperto tutti al tavolo del confronto. Poi sicuramente è un'ulteriore gratificazione enorme, quella che chiaramente ci ha riconfermato lo chef Bruno Barbieri in quanto ha aumentato chiaramente anche lo score che avevamo nel punteggio e quindi riconfermando chiaramente vincitori della puntata. Quali caratteristiche deve avere un bike hotel per essere considerato come tale? Un bike hotel che sia definito tale deve avere dei requisiti assolutamente indispensabili, uno di questi è un servizio di guida all'interno del bike hotel con una competenza di qualcuno o della proprietà o comunque sia un esterno che abbia conoscenza sul territorio, che abbia un'abilitazione di guida per poter accompagnare gli ospiti e i clienti e una possibilità di mettere a disposizione chiaramente mappe, tracce e quant'altro necessario. Oltre a questo è necessario che un bike hotel abbia un'ottima bike room, quindi uno spazio riservato esclusivamente per le biciclette, in quanto per ogni ciclista la bicicletta è un qualcosa di molto intimo e quindi deve essere assolutamente anche sicura la bike room, quindi video sorvegliata, attrezzata, organizzata con tutto l'occorrente, il materiale per il primo intervento, prima riparazione. Oltre questo chiaramente un altro servizio essenziale è che ogni bike hotel abbia un servizio di lavanderia quotidiano esclusivamente per abbigliamento tecnico e aggiungiamo infine e non per ultimo chiaramente un servizio di ristorazione che sia equilibrato per le esigenze di chi desidera comunque sia trascorrere una vacanza con la bicicletta all'aria aperta ma chiaramente ecco che sia un pasto equilibrato e completo da carboidrati a proteine e a fibre e che possa essere ulteriormente una gratificazione per il bel giro che abbiamo fatto magari durante la giornata. Spesso un programma del genere regala tanta visibilità soprattutto a chi vince, vi aspettate magari in futuro maggior successo da parte della vostra attività? Beh che dire, diciamo che la visibilità è importante e in questi giorni effettivamente la prima cosa che rileviamo è che c'è una grandissima esposizione a livello quindi di comunicazione, a livello social, a livello ecco di contatti eccetera. È chiaro che questo suscita anche l'interesse in richieste, richieste telefoniche, richieste per mail eccetera e credo comunque sia che ecco il grosso del lavoro in termini proprio operativo si possa concretizzare nel prossimo futuro quindi nei prossimi prossime settimane, prossimi mesi in quanto poi la puntata sarà anche disponibile su altre reti quindi oltre che Sky anche sulla 8 e quindi ci sarà la possibilità per tutto il territorio nazionale di rivedere la location e quindi magari di decidere di fare una vacanza qua a Ca'Virginia. È una soddisfazione questa vittoria vostra anche per l'intero territorio marchigiano? Questo è un'ulteriore conferma anche per quello che sta facendo la regione Marche in questi ultimi periodi che è quello di promuovere quindi il nostro territorio per un territorio avvocato al bike e in particolare quindi a tutte le attività outdoor quindi è un'ulteriore conferma di questo ne dobbiamo essere orgogliosi e io ne sono veramente entusiasta e fiero. Domani sera nel cortile d'onore di Palazzo Ducale d'Urbino il rettore dell'Università Giorgio Calcagnini conferirà il sigillo d'Ateneo all'industriale Alceste Vitri, patron di Rivacold Vitri Frigo e fondatore del gruppo Vag Vitri Alceste Group che con i suoi 1.700 dipendenti e un fatturato superiore ai 300 milioni di euro è il leader nella refrigerazione della grande distribuzione e nel trasporto refrigerato per l'industria alimentare e medicale. L'appuntamento è inserito all'interno della cena d'estate organizzata da Confindustria di Pesaro Urbino che sarà seguita dalle nostre telecamere che vedrete i prossimi giorni in uno speciale televisivo sempre su Rossini TV. Domani alle 18.30 al Pincio di Fano il comune di Terre Roveresche organizza una manifestazione di protesta che coinvolgerà anche i territori di Mondavio e Fratte Rosa uniti contro la realizzazione del biodigestore da 40.000 tonnellate che Aset intende costruire nel territorio di Barchi. Tanti cittadini dei comuni sopracitati hanno espresso dissenso e chiedono ad Aset di recedere da questa manifestazione di interesse. In questi giorni la città di Pesaro è presente in Brasile fra le città di San Paolo e Santos per partecipare alla 14esima edizione del marketing annuale del Network delle Città Creative Unesco. In Brasile il vice sindaco Vimini e una delegazione comunale sta incontrando esponenti di 300 città provenienti da 90 paesi. Accomunate dall'aver scelto cultura e creatività come elementi strategici per uno sviluppo urbano sostenibile. Proprio nella giornata di domani Pesaro presenterà il suo progetto Sonosfera e il percorso che l'ha portata a Capitale Italiana della Cultura. Domani, mercoledì 20 luglio, nel cortile dei Musei Civici, secondo appuntamento alle ore 21 con la nona edizione di Vaghe Stelle dell'Orsa, rassegna diretta da Laura Corraducci dedicata alla poesia italiana e straniera, da quest'anno organizzata dal Festival Nazionale d'Arte Drammatica GAD. Il protagonista della terza serata saranno i poeti e scrittori Rosita Copioli, Laura Acerboni e Gianfranco Lauretano. Ed ora ci occupiamo di alcuni appuntamenti per il prossimo weekend. Dopo due anni di stop per pandemia a Carpegna torna la festa del prosciutto. Un appuntamento che sarà seguito anche dalle nostre telecamere di Rossini TV e allora adesso in questo servizio ascoltiamo il sindaco di Carpegna, Mirko Ruggeri. Lo splendido scenario di Carpegna si riappropria della sua eccellenza enogastronomica con la E maiuscola. Dopo due anni di stop per restrizioni pandemiche torna la festa del prosciutto di Carpegna, torna la festa della DOP marchigiana che da venerdì 22 a domenica 24 luglio accompagnerà i visitatori in una ricca diciassettesima edizione che spazierà fra ogni declinazione di degustazione del prosciutto. Dalla cena dei tesori a palazzo alla visita agli stabilimenti di produzione fino alla merenda col maxi panino da 50 metri. E poi ancora il moto raduno moto prosciuttata, mercatini, stand, iniziative fra sport e trekking, il tutto accompagnato da concerti serali. Il prosciutto di Carpegna è il nostro fiore all'occhiello sul discorso dei prodotti tipici. Sappiamo quanto anche il turismo sia legato all'enogastronomia. È una delle trade-off delle marche. Si produce a Carpegna grazie allo splendido microclima che noi abbiamo, a questa maturazione che lo rende molto molto particolare. La festa del prosciutto di Carpegna che si svolge solitamente a luglio diciamo che celebra questo prodotto e dà anche l'occasione al comune di mettere in mostra le proprie bellezze. Quindi sarà un calendario ricco di eventi che partirà il venerdì 22 luglio con tesori a palazzo. Questa cena gourmet molto molto bella, molto affascinante che si svolge nella cornice del giardino di Palazzo dei Principi. E da lì in avanti saranno tutta una serie appunto di eventi che intratterranno i turisti che arriveranno in quel weekend a Carpegna. Tanti sono gli appuntamenti per questo prossimo fine settimana. Sabato 23 luglio torna la Notte Bianca a Vallefoglia. Sabato 23 luglio 2022 avremo di nuovo la Notte Bianca con otto fermate eventi. Avremo white bus, le navette che collegheranno le otto aree eventi come nella tradizione delle feste della Notte Bianca. Ci saranno concerti, attività per i bambini, DJ, ci saranno dimostrazioni di ballo, aperitivi, cene, cene di pesce, di carne. Insomma una nottata ricca di eventi e di attività enogastronomiche. La Notte Bianca è una ripresa anche di un'attività, dell'attività commerciale, dell'attività musicale, dell'attività di divertimento anche con l'obiettivo di tenere i ragazzi in questo territorio e di vivacizzare anche le attività commerciali che sono di buon livello. Quindi ci sarà enogastronomia, ci sarà svago, divertimento, si starà insieme. Ci sono i pullman che danno la possibilità anche alle persone un po' più grandi di osservare la nottata, la serata di tutto il territorio. È un segno anche di ripresa, di vivacità e di un superamento di questa fase di quasi due anni del Covid. Concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport e col mercato della Vispesaro che sta allestendo la squadra in vista del ritiro precampionato che comincerà questo sabato. Nelle ultime ore sono stati ufficializzati gli arrivi in prestito di diversi giovani a cominciare dall'ingaggio dall'Ascoli, del terzino destro classe 2001 Italo-Marocchino, Amine Gazoini, reduce da un'esperienza in Serie B belga. Arriva in prestito dalla SPAL il terzino sinistro classe 2003 Matteo Borsoi e viene rinnovato il prestito dal Sassuolo del portiere classe 2000 Matteo Campani, confermato a Pesaro per il secondo anno. Carissimi amici, siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Questa sera però alle 21.20 mi raccomando non perdetevi questo interessante approfondimento dedicato alla Scuola per Imprenditori che organizza ogni anno la Confartigianato Imprese Pesaro-Urbino-Ancona. Una scuola molto interessante, questa sera avrete la possibilità di saperne meglio alle 21.20. Mentre l'informazione su Rossini TV torna domani con la nostra rassegna stampa, la rassegna stampa della provincia di Pesaro-Urbino, in diretta come sempre alle 7.20 sul canale 80 e sulla pagina Facebook. Grazie mille per averci seguito, buona serata a tutti voi. Grazie mille per averci seguito.